A nome del comitato organizzatore di Festival Letteratura ringraziamo Gruppo TEA per aver contribuito alla realizzazione di questo evento e diamo il benvenuto a Gianrico Carofiglio. Grazie. Per riascoltare gli eventi delle edizioni precedenti visitate il sito archivio.festivalletteratura.it dove da gennaio 2019 troverete anche gli audio di questa edizione. Accenti, persone, parole, idee, celebrità e sconosciuti, libri perduti e ritrovati, per 30 minuti contati. Presenta Maurizio Matrone. Grazie. Buongiorno, benvenuti a tutti. Grazie. Allora, prima di cominciare ormai la formula la conoscete, sono 30 minuti e avremo l'ingrato compito di interrompere questo accento allo scadere del trentesimo minuto, ma penso che saremo già ben tarati. Alcune notizie di ordine pubblico. Allora, intanto è necessario che questo corridoio che è qui alla mia destra sia il più possibile libero per dar possibilità a una via di fuga e anche per il passaggio disabili. Anche da questa parte, c'è uno spazio che vedo chiuso, sarebbe bene il più possibile almeno lasciare un varco. Il più possibile, quindi magari di spostarsi un po' più in qua. Anche perché siamo tantissimi. Bene, vi ricordo intanto che i libri sono ormai nascosti, dove c'è un banchetto laggiù e che sono disponibili là in fondo. Siamo in diretta e abbiamo anche la possibilità di rivedere questo evento già da domani, entrando nel sito di Flessio da Letteratura e chiedendo di partecipare a questo evento. Quindi ci sono dei bottoni dedicati. Detto questo, non voglio lasciare portarvi altro spazio al nostro ospite. Buon ascolto, partono i 30 minuti. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie. Parlo in piedi perché mi è stato chiesto espressamente, perché siamo in molti così potrete avere tutti il discutibile privilegio di vedermi, diciamo così. Comincio con un ringraziamento allo stato degli atti, perché a Mantua non è accaduto prima di entrare nel tema della mia psicopatologia personale, ma volevo ringraziare Mantua, chi è di Mantua, chi ci è venuto per il festival, per non avermi sottoposto all'umiliazione che tempo fa ho avuto in un'altra città del centro Italia, che ci racconta di come la vita degli scrittori che in qualche modo sono un po' conosciuti e densa di gratificazioni, ma per l'appunto anche di umiliazioni. E volevo condividere con voi questo aneddoto perché qualche, no, ormai più di un anno fa ero in questa città dove dovevo tenere una conversazione un po' tipo questa, e camminavo nella bellissima zona medievale, quando a un certo punto mi sono sentito toccare sulla spalla e mi sono girato, c'era una signora dalla faccia simpatica e sorridente che mi fa, ma è lei? È una domanda a cui è difficile dire no, questo è bene saperlo. E quindi io dico, sì, sono io, chi mi ha fatto? E quindi lei mi fa, ma che fortuna averla incontrata, dico, non sia così sicura. Ma guardi, ho un libro lì, stavo leggendo sulla panchina, ma le seccherebbe firmarmelo? Ma faccio io, ma certo, che problema mai ci sarà, diciamo. Mi si era disegnato il tipico sorriso ebete degli autori compiaciuti di essere riconosciuti, sapete. E quindi la signora va verso la panchina dove aveva una borsa e dalla quale estrae è un libro blu, Sellerio, che vi assicuro non mi mette in allarme, perché ne ho pubblicati cinque con Sellerio, quindi era uno dei miei cinque nella mia immaginazione. Mi si avvicina e mi porge un libro di Camilleri. Ecco ragazzi, volevo, qui facciamo. Ora, io sempre non capisco, siccome racconto qualche volta questa aneddota, se l'applauso sia come sono spiritoso io o alla signora che mi ha fatto questo scherzo, ma intanto facciamo gli auguri a Camilleri che ne ha compiuti 93, diciamo. E veniamo, diciamo, alla... quando mi hanno chiesto vuoi venire a parlare di una tua fissazione, io ho detto sì, solo che poi mi sono trovato in difficoltà, non già per carenza di fissazioni, ma per eccesso di fissazioni. Dispongo di parecchia roba, parecchio materiale, anche piuttosto pesante. Però siccome era un po' circolata la voce della mia passione, quasi per certi aspetti ossessiva, vi spiegherò perché ossessiva per le arti marziali, ho detto ma perché non ci parli delle arti marziali? E dico peggio per voi, lo farò. E quindi ne parlo cominciando a raccontare la triste ma veridica storia di un ragazzino di 13-14 anni che abitando in zona di confine fra quartiere un po' così più perbenino e quello un po' più popolare all'epoca, devo dire, obiettivamente anche abbastanza pericoloso, si ritrovava con una certa frequenza a litigare con gente più cattiva di lui perché più abituata, diciamo, a stare per strada. E una volta in particolare il ragazzino in questione, apprezzate la finezza di come parlo di me in terza persona, ne prese veramente tante da uno di questi più grandi e più cattivi. E a quel punto pensai che bisognava porre rimedio, pensai come in tanti sfigati, diciamo, la parola allora non si usava però diciamo io tecnicamente ero nella categoria. Non posso passeggiare sul palco ma se tolgo questa posso passeggiare qui. Decisi che dovevo emendarmi da questa inferiorità e quindi soprattutto in quegli anni, più ancora di quanto non sia adesso, la prospettiva della salvezza dalla paura delle botte e tutto il resto era nei segreti delle arti marziali, cioè semplicemente entrando in una palestra di arti marziali nella nostra testa, si sarebbero appresi dei segreti che in breve tempo ci avrebbero resi forti, potenti e invincibili. Giravano anche molti corsi per corrispondenza e io infatti avrei voluto comprarne qualcuno ma non avevo i soldi perché erano costosi, erano delle truffe ben concepite. Anzi devo dirvi un momento di felicità della mia vita è stato tanti anni dopo quando un signore che lavorava con me in procura, quando ero diventato un po' più grande, mi disse che lui ne aveva comprato uno, era quello più ambito, costosissimo, non sapeva doveva buttarlo e faccio no, stai calmo. E me lo sono fatto consegnare, lo conservo diciamo come una reliquia diciamo delle mie aspirazioni infantili. Ma insomma ve la faccio breve, cominciai a frequentare questa palestra di karate che era un posto interessante perché era collocato oltre la zona di confine. Per raggiungere questa palestra io dovevo attraversare tutto il quartiere più pericoloso allora della città, avevo anni 14 e ogni traversata era un momento di pura paura. Una volta mi trovai in mezzo, per fortuna non coinvolto, in una rissa abbottigliata e vi prego di credere che non era un bello spettacolo e cominciai ad allenarmi, mi allenavo in modo francamente ossessivo perché volevo imparare, ripeto andavo alla ricerca soprattutto dei segreti. Nella mia intelligenza cialtrona di ragazzino, ora il ragazzino l'abbiamo tolto ma il resto l'abbiamo tenuto, c'era questa idea per cui andavi là e imparavi qualche segreto, cioè toccavi in un punto specifico e l'avversario sarebbe stato agevolmente eliminato, messo in condizioni di non nuocere, ovviamente non funziona così. Questo insomma lo capì molto presto, lo capì molto presto in palestra soprattutto, però guardate, ora facendo una prima digressione seria. Nel momento stesso in cui impari che non ci sono, come dire, dei segreti, ma esiste una disciplina e decidi di non andartene, scatta qualche cosa. Dicono i maestri orientali che quando uno comincia la pratica dell'arte marziale, per lui o per lei un pugno o un calcio è solo un pugno o un calcio, c'è qualcuno che ha praticato arti marziali qui? Potete ben dire che all'inizio un pugno è un pugno, uno non sa come diversamente lo si possa definire. Quando si comincia la pratica, quando si comincia a capire che esiste una tecnica e che l'azione non è naturale ma richiede una disciplina, un pugno non è più solo un pugno, per chi diventa esperto un pugno non è più solo un pugno, ma la parte più interessante è il terzo passaggio. Quando uno diventa un maestro, dicono gli orientali, io credo che abbiano ragione, un pugno è solo un pugno, che è una cosa molto bella perché ci dà questa idea di circolarità della conoscenza, di giungere a un momento di consapevolezza in cui il punto di partenza si identifica con il punto di arrivo. È una cosa che in qualche modo realmente si impara se uno non smette di praticare quando capisce che non ci sono i segreti dell'invincibilità. Beh, insomma, comunque il quartiere era sempre quello. Gli anni erano, ciò è molto fastidioso da ricordare, ma erano gli anni 70, avevo due anni, perché c'è da ridere, ero precoce. E quindi, insomma, le occasioni poi di litigare per strada, vuoi per ragioni, come si dice, comuni, vuoi per ragioni politiche, erano frequenti. Io proprio ho il ricordo di un momento di passaggio nella percezione del resto del mondo rispetto a me, legato a un episodio di questi e alle arti marziali. Erano gli anni delle botte per strada, i fascisti che giravano abbastanza ben armati e anche, diciamo così, le fazioni opposte. Nella mia classe avevo, allora forse 16 anni, sì, erano un paio d'anni che facevo questa roba e vi prego di credere che non avevo un aspetto temibile. Ero alto così come sono adesso, ma circa 20 chili più leggero, quindi, come posso dire, non esattamente il tipo che pensi possa essere un pericolo, ecco. E c'era questo ragazzo iscritto al fronte della gioventù, picchiatore di una certa reputazione, che veniva in classe con me e un giorno capitò un battibecco, ma una cosa molto stupida da ragazzini, e lui alla fine della lezione venne a dirmi, fa gli dice, quando andiamo fuori ti spezzo tutte le ossa. Non disse ti spezzo in due, però, insomma, il concetto era... perché io, in realtà, è una vita che aspetto che qualcuno mi dica ti spezzo in due. Siccome non me l'ha detto nessuno, l'ho fatto dire a un certo punto, un personaggio in un romanzo di guerrieri dice, ti spezzo in due, lui pensa tutta la vita aspettavo che qualcuno mi dicesse così e poi risponde, provaci. Vabbè, magari capiterà. Anzi, se qualcuno mi dice ti spezzo in due quando finiamo qua, io, insomma, lo apprezzerei. In ogni caso, lui disse più o meno l'equivalente del ti spezzo in due e poi andò via. Io pensai che, boh, fosse una cosa così tanto per dire. Non era tanto per dire perché esco da scuola, giro l'angolo e vedo questo qua, io ancora con i libri, che parte con due pugni, come si dice di prima, senza neanche dire facciamo un duello regolare, insomma, una tecnica abbastanza diffusa in certi ambienti politici non debellati, peraltro, diciamo così, se proprio volessimo fare il riferimento all'attualità. E io schivai il primo, cioè il primo riusci a schivare, ma il secondo mi prese, cioè è difficile con il, ricordo bene, l'Atlante e altri libri così, diciamo, avere una mobilità perfetta, dopodiché lasciai cadere i libri, un ricordo quasi a rallentatore, poi magari è quello che mi sono raccontato, però i testimoni mi dicono che era così, cioè l'ho presi con uno solo, solo senti proprio, adesso andiamo in zona portetta, no, comunque insomma senti il naso che cedeva un po' tutta, questo fece un volo, io stesso fui stupefatto di quello che era successo perché lui volò a terra, io che diciamo non ero ben disposto nei suoi confronti in quel momento, stavo andando per, come dire, finire il lavoro, qualcuno mi acchiappò mentre stavo, mi tirarono via, ricordo anche, diciamo così, una fase concitata di grida percepite anche da un paio di miei professori che non so per quale motivo il giorno dopo non assunsero le giuste determinazioni disciplinari che avrebbero dovuto, ma insomma per farla breve questo va via, quando mi lasciano io lo seguo, vado verso il garage dove era andato a nascondersi, dove impugnava, secondo mio più perfetto stile, una spranga di ferro, però stava dietro. Vi risparmio, diciamo così, il dibattito seguito a questo tema, cioè io dissi gli usi che potevamo fare della spranga di ferro, ma non è elegante, però lui non aveva voglia di uscire, io mi ero appagato anche perché aveva la faccia completamente coperta di sangue. Beh, dal giorno dopo, vi ripeto, io ero tecnicamente, diciamo, uno sfigato e conosciuto come tale, la percezione di me cambiò da così a così, ma nella scuola incontravo la gente e mi diceva, ma tu sei quello che ha? E vi prego di credere che insomma è stato un momento di passaggio piuttosto rilevante nella mia vita perché ha iniziato a emanciparmi da quella roba là, però l'emancipazione è autentica, ho fatto insomma botte altre volte, vi risparmio la tediosa litania di questa roba qua. Quello che invece mi piacerebbe raccontarvi, considerato che siamo nelle mani di una spietata forza di polizia e quindi finiremo esattamente a 30 minuti. In realtà è stata la parte delle gare e del capire qualche altra cosa. Premettiamo, nella mia famiglia, intendo mia madre e mio padre lo sport era mal visto, nel senso che era considerato, si può fare, ma sostanzialmente una perdita di tempo. Specificamente l'idea che io potessi dedicarmi allo sport, visto che quello più dotato in quello in altri campi era mio fratello, era considerata, diciamo, davvero poco intelligente. Quindi quando io prima dissi che volevo andare a fare il karate e dovessi lottare per ottenere l'iscrizione, poi addirittura dissi che andavo a fare le gare di karate, mio padre me lo ricordo come fosse ora, diceva, ma che fai, ma cioè tu non sei, non fu una cosa diciamo di tecnica psicologica pedagogica altissima, ma però voglio dire, gli volevo bene per questo, ma tu non sei capace, cioè mi diede fiducia voi capite, ma non vai lì, ti vai a farti, però diciamo nell'essere sfigato avevo un pochettino questa inclinazione a fare il contrario, cioè se mi dicevi che un buon modo per farmi fare una cosa era dirmi che non ero adatto. E quindi ci furono queste prime gare regionali che inopinatamente vinsi, ma poi arriviamo a, ricordo come fosse ora, la Coppa Italia a Vicenza nell'80, ci qualificammo in un groppetto, andammo lì, era una gara, voi magari pensate a degli sport eleganti in cui si andava con pulmini, tute, tutte dello stesso colore, noi viaggiavamo in treno di notte pagandoci il biglietto, si andava lì indossando un maglione sopra il chimono perché le tute non ce le avevamo, e me lo ricordo lì a Vicenza arrivammo la mattina col treno, quindi senza aver dormito, la gara iniziava il pomeriggio, la mia categoria combatteva la sera. Furono, credo, otto combattimenti, uno dopo l'altro, e incredibilmente andavo avanti. E i quarti di finale della mia categoria sono raccontati con nome diverso, Guido Guerriere e non Gianrico Carofiglio, con sport diverso perché lì si parla di pugilato e qui di karate, proprio in testimoni inconsapevole. Mi ricordo c'era questo energumeno che quando lo vedi faccio, io vado, però non potevo andare, e quindi inizia il combattimento, ce le demmo veramente di tanta ragione, alla fine del tempo regolamentare eravamo pari, e io già non mi reggevo in piedi perché venivo. Quindi in quei casi nel karate si rifà l'intero combattimento, e quindi rifacciamo l'intero combattimento in uno stato totale di, proprio perdita di contatto col mondo. Quando finisce il combattimento, io non ho alcun ricordo di che cosa sia successo, ma ero convinto che fossimo di nuovo pari, e quindi pensai una cosa proprio distintissima, quando dice pari ricominciato io mi butto a terra, dico che è un malore, che poi non è una bugia perché ce l'avevo, non mi reggevo in piedi, e mi faccio portare via con la barella perché, cioè, questo è troppo. Inopinatamente l'arbitro diceva così e poi alza il braccio verso di me, quindi ho fatto qualcosa che non ricordo e che purtroppo non posso raccontarvi, per cui vinsi quel combattimento, i successivi vincemmo la Coppa Italia. La prima volta di una squadra pugliese, una competizione così importante, poi ne sono venute altre, ma non è questo importante. Quello che è importante... E che poi, io ho continuato, continuo ancora adesso, in quell'occasione ho preso la cintura nera a Primo Dan vincendo la gara, poi ne ho presi diversi altri, e che con il passare del tempo cominci a capire delle cose, quelle che tendenzialmente ti portano poi all'idea del pugno è solo un pugno e non un'altra cosa, e cioè che l'arte marziale, l'idea di imparare a combattere, è, se interpretata nel modo giusto, un modo per imparare a combattere con se stessi, cioè un modo per imparare ad avere a che fare con la propria paura. C'è un bel libro, non tradotto, di un maestro americano, si intitola Karate, The Art of the Empty Self. Karate vuol dire la mano vuota, e lui però lo interpreta come se vuoto, cioè il se che è stato capace di liberarsi della paura di se stesso e degli altri. Imparare a combattere non serve a diventare invincibili, cosa diciamo tecnicamente impossibile, serve a imparare a trattare, è una cosa che non finisce mai, con la paura di noi stessi e con la paura degli altri, cioè serve a imparare a capire che la paura è qualche cosa che ci serve, che va maneggiata e che può diventare uno strumento micidiale per ottenere le cose. Io me lo ricordo molto bene quando c'avevo davanti, quello là era brutto, spero non sia qui ad ascoltarmi, ma era brutto, aveva l'aria di uno che mi avrebbe spezzato in due tecnicamente, io mi ricordo infatti il mio maestro, il allenatore, avevano tutti l'aria che volevano essere gentili ma diciamo vabbè, e me lo ricordo prima di inizio del combattimento lui mi fa, che non è una cosa incoraggiante, cioè se vuoi dire vai a farlo a pezzo, gli fai così, vuol dire che immagini che le botte arriveranno e arrivarono infatti. Ma vedete, io ho imparato veramente un sacco di cose, adesso abbiamo un po' come si dice cazzeggiato, ma per me studiare le arti marziali, non solo il karate, ho fatto anche altre cose, ha veramente cambiato la mia vita da molti punti di vista, anche rispetto alla scrittura, non che io abbia cominciato dopo aver cominciato a scrivere, ma non c'è dubbio che la pratica dell'arte marziale, specificamente di quell'arte marziale, assieme a tanti altri fattori, abbia influito sul mio modo di scrivere. Vedete, per i non tecnici ci sono arti marziali diversissime fra loro, alcune si basano su movimenti molto complessi, circolari, qualcuno a volte dice un po' irrealistici, sapete, se uno vi sta dando un pugno immaginare di fare una danza per cui poi, nel mondo reale non è vero, nel karate se uno ti dà un pugno lo pari e contrattacchi in questo modo, è una cosa molto diretta. La percezione di una disciplina che allude alla linearità, che poi è un concetto molto giapponese, all'assenza dei fronzoli, all'assenza delle sovrastrutture, è una cosa che ha influito in molte cose della mia vita e credo proprio anche nella scrittura. La mia naturale inclinazione, qualcuno di voi, suppongo, avrà letto qualche mio libro, spero, sì. Sì, grazie. Non solo se l'era. E no, perché tempo fa, un'altra volta, abbiamo qui un uomo che non ha bisogno di presentazioni. Con noi Giancarlo De Cataldo. E la linearità che non vuol dire né la facilità né l'assenza delle sfumature, tutto il contrario. Significa, è una metafora, diciamo così, per l'applicazione di quel grande concetto che troviamo, trovate nel più famoso manuale di scrittura, probabilmente di tutti i tempi, che è The Elements of Style, è un libro uscito negli Stati Uniti negli anni 30, che continua a essere ristampato di anno in anno ed è, secondo me, non superato. La regola numero 17 è molto semplice. Omettete le parole non necessarie. E guardate, la pratica di un'arte marziale che immagina e pensa all'efficacia, che non vuol dire la violenza, che pensa ai movimenti indispensabili per fare quello che c'è da fare, né più né meno, è una buona, è un'ottima metafora. E in generale, pensando ai rapporti fra le arti marziali e la scrittura, le discipline di combattimento offrono metafore potentissime per capire questioni della vita individuale dei rapporti fra le persone. La mia preferita è quella che viene fuori dalla storia della nascita del Jiu Jitsu, che è un'altra disciplina giapponese. Jiu Jitsu vuol dire arte della dolcezza. Il principio è che vale per tutte le arti marziali, in realtà che non si debba contrapporre forza a forza. ma qualcuno vuol fare un esperimento con me? Venga. Facciamo un applauso. Non so se sorriderà così tanto dopo, ma va bene. Allora, venga, venga. Diciamo che la reazione normale nello scontro fra le persone, se si sta litigando, mi spinga? Che io rispongo alla spinta? Mi spinga, spinga. E poi chi è più forte? Lei evidentemente. Vince, che ovviamente ha poco a che fare con la tecnica e tutto il resto. Ora devo lasciare il microfono. applauso in realtà perché il microfono si possaấtire. Non so se non puoi arrivare qualora. Sì che ci sono bruciata, non è riuscita meno. Non ho poco минутa. Non quindi ne sta lontare cosa che non vuole parlare. Anche quando ci sono pura cosa che non schstartare. E sì che altre mod七, no? Anche come fatta andare da più. Non che nonaglige… non ci sono simplici abitarti. Le verein già e poi non vedo un afflictonevalente appointments tante. Non ci sono debitrative esse qui. Il microfono che usano consente oagensiliano. Non abbiamo lei mi tiene io posso andare dove è più forte cioè opporre resistenza oppure posso andare dove è più debole forza ok allora il principio è sempre quello applicare un concetto di razionalità che vuol dire utilizzo consapevole grazie, molte grazie un applauso formidabile un utilizzo consapevole delle forze, questo è raccontato nella bellissima metafora, storia della nascita del Jiu Jitsu, questi movimenti sono del Jiu Jitsu ma in realtà di tutte le arti marziali, c'era questo sapiente medico studioso studioso dell'antico Giappone che era alla ricerca del segreto della invincibilità cioè quello che volevo trovare io e quindi si dedicava allo studio di discipline le più varie per capire quale contenesse questo segreto ma nessuna conteneva questo segreto perché in un modo o nell'altro c'era sempre la possibilità di incontrare qualcuno che fosse superiore più forte più abile meglio armato più capace di gestire la strategia e via discorrendo e quindi lui era molto molto come si può dire preoccupato di non riuscire nella sua impresa e un giorno d'inverno era alla finestra della sua casa e guardava la neve cadere e la neve cadeva era una nevicata fortissima sui rami del ciliegio il ciliegio è un ramo importante nella cultura un albero importante nella cultura giapponese sakura si chiamano i fiori di ciliegio e i rami del ciliegio carichi di neve a un certo punto si spezzavano poi lui voltò lo sguardo verso lo stagno e sullo stagno c'era il salice piangente e anche sui rami del salice si depositava la neve ma quando diventava molta il ramo faceva solo una cosa molto semplice cedeva lasciava cadere la neve e ritornava su quello che abbiamo fatto poco fa giocando un pochettino con il principio di non resistenza questa è una cosa che ha a che fare con moltissimi ambiti è un principio che a me capita diciamo di insegnare in seminari sulla tecnica del dialogo efficace sul fatto il tema di questi seminari il tema di queste conversazioni rivolte ai soggetti più diversi è che la contrapposizione violenta verbale non serve a niente non serve a nessuno non produce dei risultati è in ultima analisi è figlia della paura e dell'ego esattamente quello che si impara nell'arte marziale dimenticare l'ego e quindi sfuggire la paura praticare l'arte del se vuoto di cui vi dicevo prima non è soltanto uno strumento per guadagnarsi una qualche reputazione a 16 anni quando sei uno sfigato e il fascista di turno ti aggredisce è qualcosa di molto più complicato vi prego non vorrei apparire retorico ma è una cosa del tutto vera e profonda significa imparare una capacità fondamentale per essere umani cioè la capacità di entrare in rapporto con gli altri non in termini di contrapposizione di due ego separati ma di un soggetto che è capace di vedere le cose dal punto di vista dell'altro è capace di spostarsi in una direzione o nell'altra non di spingere contrapponendo forza a forza creando quello che alcuni maestri dicono è la ricostituzione dell'armonia dell'universo frase grossa che però ha un senso se noi pensiamo al carattere malato di certi rapporti c'è un'espressione si chiama e concludo in tutte le arti marziali voi avrete sentito qualche volta gli atleti o i praticanti lanciano un urlo si chiama Chiai ecco la etimologia di Chiai è molto interessante per chiarire quello che ho detto prima e per concludere questa nostra chiacchierata Chiai è il risultato di una crasi Chi vuol dire energia forza potere interiore e Ai vuol dire riunione fusione Chiai vuol dire fusione delle energie ma in significato più profondo significa fusione dei soggetti il momento di quello che sembra uno scontro può diventare un momento di crescita individuale e collettiva succede nelle arti marziali insegnate bene può succedere dovrebbe succedere nel momento in cui riuscissimo a praticare una sorta di ecologia del discorso individuale collettivo e politico grazie a tutti grazie bene chiedo grazie volevo ricordarvi che i libri sono a disposizione in quel banchetto che l'ha e io vi chiedo con disciplina perché ne abbiamo parlato abbastanza con disciplina di avvicinarsi sì di avvicinarsi a lui con grande disciplina notate come lo ripeto con quale enfasi dico la parola disciplina per evitare un affollamento che potrebbe turbare tutta la tutta la tenda grazie buongiorno